I 77 studenti che hanno partecipato al progetto di SVEP, Giovani e Volontariato in 3D, si sono ritrovati questa mattina all'auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano per condividere con elaborati e ricerche la loro esperienza di volontari in una quindicina di associazioni del territorio. Ho fatto l'esperienza alla SOFA ed è stata davvero emozionante perché tutti i ragazzi sono molto aperti e disponibili e alla fine sono stati loro ad accoglierci e non c'era alcuna divisione tra il volontario e il disabile ed è proprio un sentimento di unione quello che ho sentito e che mi ha fatto sentire pienamente insieme a loro. Tu vorrai fare un'esperienza nel mondo del volontariato? Assolutamente sì, mi sono già avviato con la mia parrocchia per fare tutte queste esperienze che secondo me sono molto utili. Ho imparato che spesso per dei bambini che hanno o i genitori assenti per lavoro o magari per altri motivi basta fare da figura da fratello maggiore per aiutarli a passare non solo le giornate ma anche a crescere più loro come persone che magari non hanno dei punti di riferimento ben precisi appunto per problemi personali. È stata una cosa fantastica anche per eliminare tutti i pregiudizi che ci sono verso i disabili che alla fine sono persone uguali, diverse ma uguali quindi come noi.